ciao a tutti e bentornati sull'italia maker oggi siamo in compagnia di questo bestione un 150 600 di fushifilm f56 f8 una lente stabilizzata e tropicalizzata una lente quindi chiaramente pensata per un uso avifauna o comunque naturalistico è un po buia quindi stiamo utilizzando un monopod per ridurre al minimo di vibrazione la mano e poter stare un po più lenti con lo scatto cercando gli animali in momenti in cui sono fermi purtroppo vista la luminosità va usata solamente di giorno e alzando un po gli iso siamo in compagnia della fushifilm xh2 e che comunque grazie ai nuovi processori tiene abbastanza bene gli iso quindi iniziamo un po usarlo e vediamo un attimino come si comporta questo bestione all'interno di questa oasi naturale per fotografare un po di animali andiamo e quindi ma se il 600 mm dovesse bastarvi esiste anche il moltiplicatore in questo caso usiamo l'1 e 4x e non il 2x perché già un f8 diventerebbe un po troppo buio andiamo a montarlo sulla macchina e vediamo un po come si comporta passiamo a 1 3x gli aspetti più comodi di questa lente la sua staffa L in realtà non è una normale staffa e basta ma ha l'attacco arca suisse quindi ok ci si può mettere il filetto a doppia grandezza ma anche senza bisogno di una piastra adattatrice si può montare direttamente così sui cavaletti arca suisse in questo modo ci dimentichiamo la piastra che possiamo lasciarla sotto il corpo macchina e poter quindi cambiare lente più velocemente senza bisogno di comprare due piastre un altro aspetto molto comodo è anche la possibilità se vogliamo rimuoverlo al volo tramite questo pulsante qua di poterlo sganciare così e togliere del tutto la L velocemente quindi anche questa cosa qui lo rende molto versatile e comodo inoltre come un po tutte le staffa L svitando quest'altra vite ci permette di ruotare la lente con delle tacche in cui ci fanno sapere la posizione corretta per poter fare degli scatti in verticali passando invece al paraluce che si mette col classico bottoncino di attacco presenta anche uno sportellino che vedete qua è comodo se dovessimo dover interagire su filtri ad esempio un polarizzatore o un ND variabile per poter girare il polarizzatore così senza impazzire con la mano dentro quindi questo sportellino molto comodo e ben realizzato per proseguire la recensione del 150 600 siamo pure venuti qua a un campo di rugby tra pochi minuti inizierà una partita faremo un po' di scatti con questa lente dove stresseremo per bene l'autofocus molto più di prima con gli uccelli dove comunque stavano abbastanza fermi mentre scattavamo qui invece avremo dei soggetti in continua corsa che andranno avanti e indietro e vedremo come si comporta la lente nell'aggancio dei soggetti e a continuare a seguirli per far questo utilizzeremo il selettore mettendolo da 5 metri infinito anziché lasciarlo in full full permette di andare fino alla distanza minima di messa a fuoco che è 2,4 metri veramente poco per un 150 600 però diciamo che limitandolo a 5 metri sappiamo che la lente quando perde il fuoco non andrà tutta indietro ma comunque terrà un range più avanti quindi sarà più veloce nel riaggancio del soggetto imposteremo la macchina sul riconoscimento persone, a differenza di prima che era chiaramente animali e vediamo un po' come si comporta appunto in una situazione sportiva e vediamo un po' come si comporta appunto in una situazione sportiva si è appena conclusa la partita abbiamo realizzato un bel po' di scatti ai giocatori durante le mischie, i salti, le rimesse laterali torniamo in studio e analizziamo un po' la giornata di oggi tra le foto agli animali prima e queste ai giocatori adesso e terriamo un po' le somme di questa lente ed eccoci tornati in studio, allora avete già visto un po' delle foto che abbiamo fatto ma partiamo con un'analisi un po' più approfondita di questa lente è sicuramente ben realizzato, le plastic mi sembrano buone, non trasmettono un feeling troppo cheap non super premium ma neanche troppo cheap mi piace questa colorazione bianca che non è il bianco come il bianco di Canon ma è leggermente metallizzata a qualche punto di grigio dentro un po' di aspetti del tripod qua, della L già li abbiamo analizzati nel video un po' di cose che non mi hanno convinto tanto sono la ghiera qua per i diaframmi che posso selezionare automatico o manuale Fuji ci abitua ad avere su tutti i loro obiettivi XF questa ghiera di diaframmi manuali appunto ma in questo caso non ci sono delle tacche che mi dice F5, 6, F8 quindi la ruoto ma senza guardare dentro la macchina non capisco cosa è la trovo un po' inutile, si poteva anche togliere a mio avviso invece la ghiera dello zoom è molto grossa quindi si trova facilmente quando si inquadra mi piace come è fatta anche la gomma è molto bella l'unica cosa che ho notato quando si zoom dai 400 ai 600 diventa un po' più pesante quindi se capita come ad esempio nel rugby di dover continuare a zoomare e dezoommare alla lunga un po' stanca la mano devo dire un'altra cosa che non mi ha fatto troppo impazzire è la ghiera della messa a fuoco che tanto per cominciare non c'è un selettore per disattivare l'autofocus e passare in manual focus quindi la ghiera messa lì così senza uno switch fisico lascia un po' tempo che trova devo passare dalla macchina e poi l'ho trovata un po' leggerina nell'escursione un po' fluida però ammetto non l'abbiamo usata quindi poi non so quanto è precisa manca anche un selettore per disattivare o attivare la stabilizzazione e il tipo di stabilizzatore che usa quindi lavorando soltanto su un'asse su tutti e due gli assi quindi dal punto di vista costruttivo buono si poteva fare un pochino di più secondo me comodo il pulsante set qua invece che si può configurare come si vuole noi ad esempio l'abbiamo messo per settare dal passaggio tra la modalità animali e quello persone e comodi anche questi pulsantini qua che sono per preattivare l'autofocus senza dover fare la mezza corsa che attiva l'esposimetro posso anche attivare soltanto la F e sono quattro perché a seconda di come lo uso così o in verticale o girato dall'altra parte ho sempre il pollice che li raggiunge comodamente in ogni punto un'altra cosa buona della qualità costruttiva inoltre è che non ha zoom esterno quindi rimane tutto all'interno della lente anche zoomando molto questo ci permette di non portare dentro polvere e umidità nella lente o sbilanciarla quando si va a zoomare e la rende sicuramente più premium giusto per farvi capire quanto è grossa questa lente vi porto un 70-200 f2.8 stabilizzato di Canon una lente che usiamo spessissimo e se la vedete confrontata è un po' più piccolina neanche esageratamente poi c'è anche il paraluce che lo rende ancora più ingombrante però comunque per essere comunque un 600 è abbastanza algero e la cosa soprattutto interessante è che questa qui pesa 1,6 kg e questa qui pesa 1,7 kg ma se andiamo a togliere la staffa diventa anche lei 1,6 kg lo stabilizzatore abbiamo trovato abbastanza efficace Fuji ci dice 5 stop di stabilizzazione effettivamente a mano libera sulle foto si usa tranquillamente si può togliendo la staffa usarlo a mano libera così risparmiando anche un po' di peso e ingombro e anche sui video in realtà il tremolo della mano viene smorzato molto bene visto però la tipologia di focale 600 mm basta un piccolo movimento per far sì che questo movimento è ampio e comunque il peso tra corpo e lente superiamo i 2 kg alla lunga si fa sentire quindi abbiamo preferito usarla tutto il tempo su un monopod o su un cavalletto per un po' smorzare questo movimento e portarvi delle riprese degli animali che non vi facessero venire il mal di mare con questo movimento qua per la qualità d'immagine beh le immagini parlano da sole tutte le foto mi sembrano molto nitide andando a zoomare al massimo sui 40 megapixel della Fuji X-H2 un pochino di micromosso si vede però è un sensore molto risoluto difficile con una lente così grossa rendere bene però abbiamo notato comunque mediamente una ottima incisione e anche degli ottimi colori con pochissime aberrazioni cromatiche ho zoomato in tutti gli angoli non ho mai trovato quegli aloni verdi o viola sui contorni che invece spesso trovo su lenti anche più semplici di costruzione di una roba con entro 24 elementi anche la vignettatura mi sembra abbastanza assente anche se per la tipologia di foto in cui viene fatta quindi non faccio un paesaggio si percepisce meno e anche distorsioni chiaramente su un 150-600 non ce ne sono e la cosa interessante è che l'abbiamo utilizzato chiaramente a TA tutta apertura essendo un f8 chiuder più di così mi sembrava già eccessivo e la qualità è già ottima anche appunto a tutta apertura a f8 la cosa anche buona è che non decade subito a f8 ma rimane fino a 550 mm f7.1 quindi se proprio vi serve un po' più di luminosità perdete gli ultimi 50 mm che su un 600 mm su una PSC non sono così rilevanti secondo me soprattutto con 40 megapixel con cui poter croppare e guadagniamo con lo stop di luminosità che tiene un po' più bassi gli ISO e male non fa l'autofocus l'ho trovato molto molto reattivo è sempre stato veloce ha sempre agganciato in tempo zero tutti i soggetti e anche nel tracking sulle persone durante la partita di rugby una volta ha trovato il giusto settaggio alla macchina fotografica aggancia veramente bene e una volta che aggancia la persona anche quando corre verso di noi l'ha seguito molto bene inoltre l'ho trovato incredibilmente silenzioso ottimo se si usa appunto i navi fauna dove bisogna essere più silenziosi possibili se usiamo la Fuji con l'otturatore elettronico non quello meccanico veramente è un'accoppiata stealth molto bello su Juiz abbiamo letto di qualcuno che l'ha utilizzata con macchine un po' più vecchiotte tipo X-T3 o precedenti e dicono che l'autofocus è un po' lento noi l'abbiamo provata con l'X-H2 che è molto moderna e ci è sembrata molto veloce però non sappiamo dirvi se con corpi più vecchi con processori non l'ultima generazione si comporta meno bene come dicevamo nel video appunto se non vi basta un'afocale del genere esistono anche i moltiplicatori in questo caso noi abbiamo deciso di provare l'1.4x e non il 2x per non inscurirlo eccessivamente l'allattatore è abbastanza piccolo e leggero si monta facilmente appunto e fa da ingranditore supplementare della lente portandolo in caso del 600 mm come detto per 1.4x per l'1.5x del crop del sensore ha un 1260 mm equivalenti su full frame chiaramente perde uno stop quindi da f8 passiamo a f11 diventa molto buia quindi in questo caso utilizzare un monopod diventa molto utile se non si vuole salire eccessivamente con gli ISO ho notato che pur non essendo la versione 2 ma la versione 1 la perdita di qualità è pochissima e anche la perdita in termini di autofocus l'abbiamo usato soltanto sugli animali quindi soggetti da agganciare ma non da traccare è stata pressoché invariata la differenza non l'abbiamo usato sulla perdita di rugby perché saremmo diventati troppo lunghi e avremmo perso molte scene saremmo stato troppo zoomati quindi non sappiamo dirvi se su un trekking continuo quanto perde l'autofocus ma su soggetti statici semplicemente da agganciare velocemente autofocus con la stessa velocità e qualità ottica pressoché invariata l'unica cosa che ho notato è un bokeh leggermente più brusco lo sfogato dentro diventa un po' troppo duro per il mio gusto ho trovato un po' peggiorato il bokeh per il resto la qualità a mio avviso è molto molto simile sarà un 15-20% peggio ma anche meno tra l'altro il bello di quest'anno 4 è che anche lui è water resistant quindi ha qua le gommature quindi se utilizziamo un obiettivo tropicalizzato e un corpo macchina tropicalizzato anche montando l'attatore proseguiamo il flusso di tropicalizzazione e non abbiamo un collo di bottiglia quindi buono quindi in conclusione se vi interessa avvicinarvi al mondo della vi fauna o sportivo e volete spendere meno di 2000 euro e avete una fuji questa è la lente che fa per voi veramente uno tra le lenti rapporto qualità prezzo dimensioni e peso migliori che abbiamo avuto modo di recensire grazie per aver visto il video fino in fondo se vi è piaciuto vi chiediamo di lasciare un like un piccolo gesto che però ci aiuta tanto a crescere come canale e continuate a seguirci per nuovi contenuti un saluto la di taglia maica grazie a tutti